Fabio dopo la terra di nessuno c'è in programma un altro nuovo film un grande progetto sempre ambientato nel nostro territorio si è un film cento per cento crotonese diciamo perché tratta alcune alcune lacune diciamo del nostro territorio noi cerchiamo ovviamente di non farle pesare allo spettatore perché noi abbiamo sempre quel filo siamo molto velati nella denuncia perché poi romanziamo con quell'insieme di personaggi che abbiamo scritto in sceneggiatura per rendere la storia molto più come dire accettabile a quella parte di pubblico che tende sempre a lamentarsi sui problemi che accentuiamo in continuazione che alla fine sembra che ci facciano passare per coloro che vogliono martoriare la propria terra ma invece noi la noi la amiamo la nostra terra infatti anche con il film precedente la terra di nessuno noi abbiamo denunciato un fenomeno criminoso che è quello della dell'andrangheta qui in calabria però l'abbiamo fatto in un in una maniera molto velata e mai molto spropositata con violenza come fanno vedere oggi in molti film noi l'abbiamo fatto in modo anche molto sperimentale devo dire la verità e sembra che il pubblico abbia apprezzato quindi speriamo speriamo anche con questo nuovo progetto quindi tematiche che mettono in risalto sicuramente dei deficit del nostro territorio ma comunque sempre con l'augurio che tutto ciò possa migliorare e magari che ne so magari aiutare eh anche a a trovare delle soluzioni ovvio il nostro scopo alla fine è quello di aiutare e di mandare dei messaggi positivi al pubblico anche se i messaggi spesso possono sembrare negativi ma in realtà eh sono puntati per far per far pensare far pensare al pubblico far riflettere sul sulle nostre problematiche e sui nostri tesori che abbiamo anche su questa terra che magari non sono spesso sono poco valorizzati ahimè quindi speriamo bene spoileriamo un po qualcosa di questo film parliamo partiamo dal titolo per arrivare a dei nomi alcuni importanti e conosciuti sì allora come titolo provvisorio ma penso sia quello definitivo poi si chiamerà il film libero di volare e tutto parte da un'idea di vincenzo carvelli che poi abbiamo abbiamo ampliato diciamo il il racconto a livello di sceneggiature di personaggi e abbiamo deciso di di ingaggiare diciamo dei nomi delle eccellenze specialmente calabresi come franco neri gigimi seferi molti altri a qualcuno marcello arnone pure antonio tallura eh direttamente da squadra antimafia le cento vetrine insomma avremo un bel cast fatto da queste star qui diciamo e in più ci saranno anche i nostri giovani ci saranno sempre perché noi siamo sempre partiti con i giovani tanti anni fa e quindi eh manteniamo sempre il nostro stile il nostro stile nostrono diciamo capito una data di inizio di registrazione di questo film allora noi speriamo di partire intorno alla prima metà di ottobre tra il 10 e il 15 ottobre sperando che il problema del covid non ci blocchi questo è il nostro più grande problema spero di no ma noi cerchiamo di partire speriti perché noi in quattro settimane vogliamo finire di girare per poi per poi dedicarci a tutto il resto per poi